Da un lato l'indagine della Guardia di Finanza, della quale trapelano nuovi particolari. Dall'altro, dopo l'avviso di garanzia per concussione e le successive dimissioni dell'assessore al commercio Filippo De Rossi, accusato di avanza due commercianti, c'è la bufera politica che inevitabilmente si è abbattuta sulla maggioranza che governa Cittadella. Il sindaco Luca Piero Bon ha ribadito ai nostri microfoni l'assoluta trasparenza della sua amministrazione, dicendosi pronto anche al gesto simbolico di far rimuovere la porta del proprio ufficio. Ma i consiglieri del Partito Democratico hanno presentato un'interrogazione urgente nella quale, come annunciato nei nostri notiziari dei giorni scorsi, contestano al Comune l'approvazione di regolamenti che porterebbe ad un eccesso di discrezionalità alla Giunta e chiedendo al sindaco quali strumenti intende adottare l'amministrazione per evitare potenziali situazioni a rischio. Intanto proseguono anche le indagini delle fiamme gialle, tra gli screenshot dei messaggi scambiati dall'assessore con le due commercianti fino ad una registrazione audio di parecchi minuti e ai tracciati dei GPS. Ma gli inquirenti intendono anche appurare se il caso delle due donne sia isolato oppure siano coinvolti altre persone.